ci siamo quasi sta per arrivare sta per arrivare forza ragazzi forza voglio un po' di pifo vai e sono partiti è partito come un è partito come un pazzo questa è la squadra dei perfetto ora vai dietro bravo pifo vai dietro allora andiamo a vedere al primo tavolo cosa succede Antonio sei tornato e i primi tre sono entrati Robotics Pifo lo stadio è con voi allora qua cosa è successo è da tre minuti piano piano se ne è stato tirato un'altra è furbacchione è furbacchione allora da questa parte vediamo cosa succede allora due pecorelle sullo stato superiore da parte di Robotics Silvio e il Rambo che succede ragazzi oh due e se ne è portata l'altra se ne è portata l'altra al frattempo al tavolo numero tre vediamo se siamo pronti allora vediamo se al tavolo numero tre siamo pronti allora da questa parte è finita si è conclusa la gara vediamo subito dopo il punteggio allora qua ci siamo quasi si aspetta allora tavolo numero tre siamo pronti ragazzi siete pronte? perfetto chiamiamo il tavolo numero tre un grid team con bad boys un grid team con bad boys e la vittoria c'è stata? e allora vediamo cosa succede qua vedo un bastone in campo giù 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 sedetevi sedetevi vuole cosa è accaduto professore? stanno misturando le pecore bianche sono dentro il recinto sono dentro il recinto sono dentro il recinto perfetto qua una se ne è andata l'altra cosa sta facendo? vediamo sta passeggiando con la pecorella bianca di sopra altre? ah ce n'è una e una nera tesoro? da qua a te prego da qua dai forza bimba sei agitata allora vediamo se c'è il punteggio invece al tavolo numero uno al tavolo numero tre è stato per partire ci siamo? allora ucciere team e bad boys avete tre minuti di tempo se non venite squalificati ucciere team e bad boys veloci veloci applauso punteggio abbiamo il punteggio al tavolo numero uno qual è il punteggio? vediamo grazie a tutti Grazie.